e ciao a tutti amici io sono franco versa ci stiamo avvicinando al periodo natalizio e quindi potremo concederci dei regali ma state guardando questi video e non è più natale non c'è nessun problema magari avete proprio bisogno di questo accessorio che vado a presentarvi oggi vedrete una piccola serie di video dedicati a degli accessori che magari nel tempo acquistato e ho pensato magari se sono tornati utili a me possono tornare utili a voi queste recensioni sono libere non produttore non mi ha agevolato in nessuna maniera ovviamente sono tutti accessori inerenti al campo della videoproduzione oggi vi faccio vedere una piccola scheda di acquisizione della digit now è questa qui in particolare adesso vado a spiegarvi bene il prezzo ve lo dico subito perché ovviamente varierà ma è attorno ai 90 euro quindi molto accessibile ma questa scheda presenta delle caratteristiche buone io l'ho testata e vi faccio vedere alcune prove così un po empiriche ma già da questo si capisce che la scheda lavora bene e non presenta lag questo importante lo state vedendo anche con il video ovviamente tutte queste prove dovrete farle direttamente voi perché ad esempio passa la telecamera un frate bisogna stare attenti con il frate del software bisogna stare attenti con frate della telecamera tutto deve andare in accordo perché altrimenti uno vede dei piccoli lag poi renderizzi il video nel youtube e deve essere tutto in accordo perché altrimenti qualche piccola magagna può tornare fuori quindi ovviamente anche dipende da chi ha prodotto il video quando faccio un acquisto guardo tantissime recensioni cerco di informarmi il più possibile guardo le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e ovviamente non ultimo guardo il prezzo il prezzo è relativo perché ovviamente è inerente al nostro budget e a cosa dobbiamo fare perché sicuramente non andremo a spendere poco se dobbiamo fare una produzione dove dobbiamo vincere l'oscar invece se dobbiamo fare magari che so la ripresa appunto lo youtuber a casa e non ha grandi necessità ovviamente non va a spendere 1000 2000 3000 euro per una scheda di acquisizione se poi non ne ha un ritorno quindi il discorso prezzo è relativo il discorso della qualità no perché vedere dei video che vanno a scatti è sicuramente fastidioso che abbiate speso 10 euro che ne avete spese mille anzi in quel caso sareste anche incavolati eccomi qua sulla pagina di amazon e come vedete questo modello piccolino e vi assicuro che è un po pesante l'unico neo che ho riscontrato finora è che scalda abbastanza ma ho visto che una cosa anche comune queste schede a questo look così un po giocoso c'è anche in versione nera ma io ho preso questa rossa perché questa rossa era proprio anche come caratteristiche tecniche quella che volevo ho visto che la di ginao ha copiato mi sembra da una scheda asus adesso non vorrei dire sciocchezze come vedete la scheda e dopo vi faccio anche delle riprese della scheda da vivo è molto semplice da utilizzare presenta un ingresso hdmi e nel quale collegherete il vostro dispositivo ad esempio il computer se fate i video games potrete fare entrare il computer qui quindi giocando con il vostro computer andrete su un altro computer in uscita a registrare dalla uscita che come vedete è usb 3 questo è importante per assicurare anche una certa velocità della usb come vedete c'è anche un'uscita hdmi out e con questa è possibile andare ad un monitor dall'uscita che di mia potete andare anche a proiettori monitor e quant'altro per cui capite che questa scheda può servirvi anche ad altre ad altre cose e in ingresso come vedete potete andare da telecamere playstation xbox addirittura anche in ingresso potete mettere telefonini che abbiano l'uscita ovviamente hdmi andiamo a vedere le caratteristiche tecniche questa scheda supporta una risoluzione in input di 4k hdr a 60 hertz e la scheda offer streaming video in 4k fino a 30 fps 2k a 60 e in full hd a 120 ecco attenzione che non è questa scheda non si presenta così come vedete interessante il discorso di poter collegare la vostra reflex se dovete fare video come vedete potete poi vedere la scheda su qualsiasi social che veda una webcam quindi anche su skype su zoom su quelle non elencati qua anche direttamente streamare su youtube e facebook ecco guardate quanti modelli la dg 9 fa quindi attenzione a andare su questi due come sistema operativo come vedete vanno bene sia con windows che con mac ma andiamo a vedere alcune prove che ho fatto questa è la prova forse più importante ho collegato una telecamera professionale della sony e ho fatto diverse zoomate e panoramiche ho fatto delle zoomate perché di solito sono queste le cose che vanno a scatti zoomate e panoramiche e come vedete il risultato è molto fluido poi non avendo giochi particolari da far girare sul mio computer ho collegato un computer con appunto uscendo in hdmi e ho inserito un benchmark di test quindi queste non saranno immagini veloci ma possiamo vedere la qualità e della risoluzione questo usciva ovviamente in full hd e la qualità dei colori non mi sembra assolutamente male per fare un altro test ho fatto girare sempre sul computer esterno un video in maniera da vedere la fluidità ovviamente sul portatile era fluido e come vedete anche in registrazione è fluido e i colori sono corrispondenti ho inserito anche da vinci resolve per vedere come si comportava se dovessimo fare delle recensioni ma come vedete il software è stato acquisito veramente bene e la fluidità di queste particelle dimostra che non ci sono assolutamente lag nella registrazione bene abbiamo parlato di natale e come vedete la scheda si presenta molto natalizia con questa riga led coloratissima a parte quello il design è accattivante soprattutto per chi fa videogames anche se la scheda non si vede in streaming invece per chi magari lavora è un po più fastidioso però la scheda da un certo che di solidità e vi assicuro che ha un certo peso frontalmente come vedete abbiamo a destra la presa del microfono che sto utilizzando in questo momento e a sinistra la presa cuffie con la quale potremo sentire appunto anche direttamente dalla scheda l'audio che stiamo registrando che possiamo mixare ai suoni del videogames o della sorgente che stiamo acquisendo e sul retro della scheda troviamo l'hdmi in ingresso dove ora sono collegato con la telecamera l'hdmi in uscita che ora non sto utilizzando ma è quella dove possiamo andare al monitor il cavo blu è l'usb 3 in uscita questo è in dotazione e il cavo nero è un'alimentazione in ingresso che è sempre tramite usb quindi potremo fornirla tramite il computer ovviamente tramite un alimentatore esterno ecco come si presenta la scheda da sopra la cosa più strana di questa recensione è proprio che sto utilizzando la scheda per tutte queste operazioni e come vedete funziona benissimo faccio vedere in obs la facilità di inserire la camera creiamo una scena quindi andiamo sulle fonti andiamo sul dispositivo di cattura creiamo un dispositivo nuovo ad esempio scriviamo digit digit now ora andiamo a prendere la camera usb 3 non questa ed ecco qua come vedete ora ci sogno con lo schermo bianco e qua poi ovviamente possiamo andare a settare la nostra camera le preferenze eccetera e abbiamo già fatto quindi ovviamente se invece della telecamera ci fosse stato un computer portatile una sorgente esterna eccetera avremmo visto quella e siamo pronti per creare la nostra diretta faccio anche un semplice esempio con zoom vado a entrare in una stanza dentro anche con l'audio non importa e ora qui andrò a selezionare usb 3 4k video ed eccoci qua come vedete anche su zoom skype quello che desiderate è possibile rilevare la scheda vado a inserire su zoom un bello sfondo e ecco qua guardate la qualità ovviamente adesso c'è una bella telecamera inserita però vedete che la scheda non ha nessun ritardo nessuna latenza e bene visto il costo del prodotto non insisto più di tanto avete visto che comunque la qualità c'è quindi può servirvi sia se siete youtuber sia se appunto dovete registrare videogames o quant'altro se volete visualizzare la console su monitor esterni eccetera io vi ringrazio per avermi seguito scrivetemi pure in descrizione se avete ulteriori domande e ci vediamo alla prossima recensione ciao ciao